L'istituzione di una giornata dedicata allo spettacolo, alle arti scenico-rappresentative il 24 di ottobre, voluta dal Senato della Repubblica Italiana e annunciata dal Ministro Franceschini è un'ottima cosa, ma perché rimanga un'ottima cosa e non faccia la fine di quel detto molto indovinato della nostra tradizione, finita la festa a Gabbatolo Santo, quella giornata deve essere una giornata insieme di bilancio e di rilancio delle attività, dei progetti dei finanziamenti, rivolti a questo importantissimo settore della nostra società. Cosa intendo dire con questo? Il comparto delle arti scenico-rappresentative impiega lavoratori, non solo gli attori famosi che sono una stretta minoranza, strettissima, ma c'è una classe operaia che lavora nel campo delle arti scenico-rappresentative, macchinisti, attrezzisti, scenotecnici, elettricisti, luminotecnici per esempio e poi tutto il comparto degli impiegati e dei collaboratori e poi trasportatori, facchini e naturalmente anche coloro che creano gli eventi, gli spettacoli. Ed è importante che si capisca e che questa giornata serva per farlo capire a tutti i cittadini italiani. I lavoratori di questo comparto insieme a tutti i lavoratori della cultura dovrebbero essere considerati come in altri paesi dell'Europa lavoratori e creatori della massima importanza per il nostro paese. Perché noi non siamo quelli che divertiamo, noi siamo soprattutto quelli che determinano l'identità del nostro paese. Quando si parla dell'Italia si parla della sua arte, della sua cultura in tutti i sensi e noi ci gloriamo per questo e veniamo riconosciuti per questo e quindi che questa giornata diventi il riconoscimento di questo senso e di questo orizzonte perché il paese si riscatta soprattutto con l'istruzione e con la cultura. Ricordiamocene anche il 24 di ottobre.